Noi oggi siamo qui a Riosaliceto perché è qui che è nata l'azienda oltre 60 anni fa e qui che c'è ancora un pezzo di proprietà che però ha praticamente rinnegato sia il passato che il presente non presentandosi ai tavoli istituzionali convocati dal Ministero della Struttura Economica, quindi noi dello sviluppo economico. Quindi noi speriamo in questo modo di sollecitare sia questa parte di proprietà sia l'altra che però è ancora anonima affinché si possa contrattare seriamente sul futuro dei lavoratori e sul destino di questa azienda. Sono una dipendente della ormai ex Manifattura Riese a questo punto e siamo qua in piazza con i miei colleghi per manifestare il disappunto sulla proprietà che dopo oltre 60 anni di profitti e guadagni sul territorio decide di chiudere un'azienda che comunque è sana per un non si sa quale motivo speculativo. Noi pensiamo che questa cosa non debba passare, siamo qua per appunto farci sentire per un po' di solidarietà da parte di tutti. Oggi siamo qua per manifestare ancora la nostra volontà di dare continuità ai percorsi istituzionali in quanto ad oggi la proprietà non si è manifestata su nessun tavolo né comunale né regionale né tantomeno ministeriale. Abbiamo l'ultimo incontro il 28 di luglio sul tavolo del Ministero del Lavoro per la quale confidiamo che sia le istituzioni che l'impresa ragionino per il bene dei lavoratori, del territorio, dell'impresa stessa. Cosa che ad oggi purtroppo non ci è stata concessa in quanto la procedura di licenziamenti collettivi non è stata ritirata.